È stata una bellissima esperienza, è una bimba bravissima, chiaramente sono aiutata da una straordinaria babysitter che mi segue sempre, non mangiare il microfono e devo dire ha fatto tutti i concorsi, non ne ha perso uno, io ho ricominciato subito e Bianchina è stata sempre con noi. Aerei, macchina, tutto ho già fatto, ha un sacco di chilometri e si mangia il microfono.